Benvenuti e bentrovati, io sono Andrea Arnesano, analista e trader in opzioni. Oggi sono qui a presentarvi il percorso sulle opzioni Alpha Option Strategie Operative. Dopo aver introdotto la teoria con il percorso opzioni dalla teoria alla pratica, è giunto ora il momento di passare ad argomenti più concreti. Premetto che non basta un corso online per poter comprendere tutte le dinamiche dei mercati, perché ovviamente molte cose vanno viste direttamente sul campo attraverso il Trading Club dove lavoriamo con tutti i nostri migliori trader. Questo perché, per quanto mi riguarda, il metodo rappresenta il 20% di quello che ci serve, mentre l'esperienza il restante 80%. Con questo ciclo di webinar, siamo qui per mettere le basi operative per iniziare a fare le prime prove sulla piattaforma. Il percorso andrà a toccare i seguenti argomenti. Vertical Spread, la semplicità alla base della nostra strategia. Il tesoro delle comprate. Come sfruttare un mercato laterale. VIX, l'indice della paura. L'acquisto dei Vertical Spread, sfruttiamo il trend. Opzioni Butterfly dopo l'esplosione. Opzioni su Future e Commodity, sfruttiamo il Gamma e le accelerazioni dei mercati. Che cosa ci possiamo aspettare? Vorrei tanto potervi dire che attraverso questa metodologia guadagnerete sicuramente decine di migliaia di euro al mese senza difficoltà. Ma questa sarebbe solamente una menzogna. Io, quello che posso dirvi, è che con queste tecniche siete sulla buona strada per diventare al più presto dei trader profittevoli. Come sapete, all'inizio della propria carriera, mediamente un trader perde il 30% del proprio capitale. Il nostro obiettivo è quello di farvi risparmiare questo 30% nei primi mesi di lavoro. E perché si perde? Queste perdite sono causate da false aspettative spesso indotte da pubblicità ingannevoli, formatori di professione oppure cattivi consulenti. Ma la realtà è che grazie a noi e a tutta la nostra community avrete tutte le armi per poter gestire comodamente il vostro denaro dedicando ai mercati non più di 30 minuti al giorno. E passata questa prima fase di apprendimento, come dico sempre, sky is the limit. Nel senso che sarete voi stessi a costruirvi il vostro successo. Potrete decidere di operare in maniera più parsimoniosa e con rischi più bassi, puntando magari ad un 3, 4, 5% al mese. Oppure potrete decidere di lavorare in maniera più dinamica, prendendovi qualche rischio in più, puntando però a dei rendimenti più corposi. Io sinceramente preferisco fare parte del primo gruppo e poi integrare la mia operatività con un po' di spread trading, con un po' di azionario, con un po' di forex, insomma, con tutti gli strumenti che il mercato mi mette a disposizione. Siamo qui per costruire qualcosa di grande e duraturo tutti insieme. Ognuno ha un sogno, ma un sogno senza un piano non è destinato a realizzarsi. E come diceva il grande Camillo Olivetti, uno che di sogni se ne intende, un sogno sembra un sogno fino a quando non si incomincia da qualche parte. Solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande. Quindi se anche tu hai come obiettivo di imparare a gestire il tuo denaro come un professionista, allora sei la persona che fa per noi. E per questo ti invito a seguire i prossimi webinar. Grazie a tutti.